Eccoci pronti, buongiorno, ben trovati a TG2 Lavori in Corso, come sentite ho poca voce, però insomma ce la faremo sicuramente, grazie siete sempre tanti a seguirci. Allora noi oggi con voi vogliamo parlare di cibo, ma di non spreco, ne sprechiamo veramente troppo tanto, specialmente poi in questo periodo, perché abbiamo le case piene di mangiare e spesso lo buttiamo. Invece ci sono dei modi che scopriremo insieme come possiamo anche veramente riciclare il cibo, quindi riutilizzarlo, poi dopo parleremo di benessere, andremo in India, quindi abbiamo una puntata ricca di cose. Vediamo insieme il nostro servizio che ha curato per noi Andrea Romoli, vediamo. Ogni italiano, ogni anno, butta mediamente 76 kg di cibo nella spazzatura. Alla fine il dato totale degli sprechi alimentari in Italia arriva a 12 miliardi e mezzo di euro l'anno e di questi il 54% al consumo domestico e il 21% nella ristorazione. Grazie alla collaborazione e al sostegno di una grande industria italiana di imballaggi per cibo, il Banco Alimentare, associazione benefica che si occupa del recupero delle eccedenze e della loro redistribuzione a strutture caritative, ha iniziato da alcuni anni un efficace programma di raccolta di cibo avanzato da mense aziendali. Un'iniziativa di successo, ma adesso la battaglia per combattere lo spreco si trasferisce al tavolo del ristorante. La campagna Save the Bag punta a diffondere l'abitudine di portarsi a casa a fine cena quanto avanzato delle portate al tavolo. Non c'è ancora questa abitudine, vedo che molti clienti hanno una specie di disagio culturale ancora nel chiedere, però credo che invece questa sia un'abitudine che debba prendere piede e noi ci stiamo lavorando già da qualche tempo a tal proposito, proponiamo anzi di portare a casa l'avanzo o comunque il piatto che non si riesce a terminare durante la cena, credo che sia un discorso etico. Con il contributo del Politecnico di Torino è stata ideata una pratica confezione da asporto che oltre mille ristoratori convenzionati in Italia offrono gratuitamente ai loro clienti che vogliono portare con sé quanto non sono riusciti a consumare al tavolo. Una pratica che tanti italiani considerano poco educata, ma che i ristoratori vedono invece favorevolmente. A noi fa anche piacere, nel senso che vediamo che il piatto è stato gradito, quindi ci fa anche un riconoscimento anche al nostro lavoro. In effetti, proprio come dice Andrea Romoli, è perché abbiamo un po' questo retaggio culturale brutto venire via da un locale, da un ristorante, magari con la bustina o con un contenitore, però su questo invece ci sono delle grandi iniziative, perché veramente si vuole fare una lotta allo spreco a 360 gradi. Intanto per noi c'è Aldo Mario Cursano, buongiorno, vicepresidente FIPE, quindi parliamo della Federazione Italiana Pubblica Esercenti, e anche voi avete proprio focalizzato su questo, ma non soltanto, poi noi parliamo Aldo ovviamente. E poi c'è una giovane, direi forse imprenditrice, definiamola così, giovanissima, Giulia Proietti. Buongiorno Giulia. E lei è stata proprio l'ideatrice, è la presidente tra l'altro, di Eco e Evento. Esatto. E quindi sta a significare proprio rapidi rapidi e poi torniamo su questo? Sì, il nome vuole portare un po' di equità nelle tavole, noi ci sono tanti tipi di spreco, noi abbiamo deciso di focalizzarci sullo spreco agli eventi, lo spreco alimentare dagli eventi, quindi recuperiamo tutte le eccedenze da cene aziendali, matrimoni, grandi eventi sportivi, e le doniamo a chi ne ha bisogno. In questo modo cercando da una parte di ridurre lo spreco alimentare e dall'altro anche di aiutare chi è in difficoltà. Ah, sicuramente. Allora, c'è una persona che ha fatto della sua arte, perché è un artista lui, della sua arte della cucina, veramente ha sposato in pieno una filosofia del rispetto, del cibo, dell'ambiente, e infatti si chiama Keers e lui è Norbert Niederkoffler. Buongiorno Norbert. Buongiorno a tutti. Eccolo là. Buon Natale. Grazie Norbert. Allora, intanto veramente so che sei impegnativo, sei molto impegnato in questi giorni, hai molto da fare. Tra l'altro tu sei veramente fresco di una terza stella, quindi sei veramente nel firmamento, sei quello che brilla di più. Sei uno tra quelli che brilla di più, Norbert. Penso che abbiamo fatto un grande lavoro, siamo adesso in nove in Italia, però sono molto fiero che noi veramente siamo arrivati a questo traguardo lavorando su un concetto che all'inizio ha cominciato con Cook the Mountain, e lì soprattutto rispetto per i produttori, rispetto per veramente chi ci lavora con noi, e chi ha creduto in noi, e soprattutto anche per il futuro di quello che facciamo con Keers, con no spreco e no valiente di riutilizzare tutto quanto. C'è da dire Norbert una cosa importante, io mi sono andata a sfrugugliare le motivazioni per cui appunto ti hanno dato questa terza stella, ti sei preso questa terza stella. E effettivamente al di là del punto della tua cucina, che è qualcosa di eccezionale, che tutti conosciamo, ma c'è da dire che tu hai fatto un grande lavoro per quanto riguarda proprio l'attenzione al cibo, all'ambiente. Diciamo che tu vivi in montagna, sei in Alta Badia, e utilizzi tutto ciò che dà la montagna, sbaglio? Ma noi, come ho detto sette anni fa, abbiamo cominciato questo concetto di Cook the Mountain, lì Cook the Mountain vuol dire praticamente di lavorare con dei produttori locali, con dei produttori che conosciamo, per quello sono già dei lati molto importanti, perché per me è molto importante che il prodotto ha una faccia, proprio che sa raccontare una storia, e poi ovviamente di capire le problematiche che c'erano dei produttori, di capire veramente cosa si deve fare, cosa bisogna fare per usare il prodotto al 100%. Così noi abbiamo praticamente tre punti molto forti. Uno è la montagna, due è la stagionalità, e tre è il no spreco, però già partendo dalla ricetta e non recuperare dopo, però noi vogliamo anticipare tutto. Ecco, allora Aldo, Mario Cursano, secondo me è una filosofia che dovremmo sposare veramente tutti. Io quando Norbert me ne parlò, veramente rimasi molto sorpresa, perché poi loro hanno un grande ruolo, diciamo di influencer cosiddetti, sono dei trainer, quindi sono importanti che si mettano in gioco e diano veramente un messaggio molto forte. Fipe su questo si dà molto da fare. Che cosa state facendo? Anche voi, per esempio, sposate l'idea del doggy bag, quindi della borsa che possiamo portare via dopo una cena, sbaglio? Assolutamente, e lo stiamo facendo in un contesto che possa essere gradevole, piacevole, e quindi non situazioni della classica busta che potrebbe magari condizionare, e quindi fare in modo di incidere un po' sugli stili di vita affinché ciò che si acquista poi alla fine venga interamente consumata. Perché lo spreco è un peccato, perché per produrre un vitello occorrono 5.000 metri cubi di acqua, due piscine olimpiche. Per fare un chilo di grano occorrono 300 litri di sola acqua, senza pensare al lavoro del contadino, del processo produttivo. Quindi alla fine buttare o sprecare qualcosa vuol dire buttare via quelle due piscine olimpiche di acqua. Quindi occorre che ognuno di noi dia valore al cibo. E qui concordo perfettamente con il collega chef che il nostro ruolo, la nostra missione è quella di far consumare il pasto. Bisogna stare attenti alla porzione, bisogna fare in modo che soddisfi le aspettative, perché quando rimane qualcosa nel piatto c'è qualche problema. O non era adeguatamente buono o era abbondante. Può succedere anche che magari il bambino oppure la fame rispetto all'ordine e poi la possibilità di portarlo a casa attraverso questi strumenti diventa una soluzione. Per esempio, infatti lei diceva che abbiamo un po' evitato l'idea della busta, di uscire dal locale con la busta e cercate di andare incontro alle persone, alla gente, anche con degli oggettini molto carini, che tra l'altro questi sono fatti da Fipe e Comieco, quindi assolutamente non c'è. Però avete fatto un doggy bag molto simpatico, molto carino, proprio per invogliare la gente. È carina anche l'idea che avete dato come dicitura. Doggy bag, se avanzo mangiatemi. Questo è molto bello, no? Perché effettivamente voi invitate a non sprecare. Fondamentalmente è questo. Assolutamente. Poi anche oggi la tecnologia porta anche nei nostri processi produttivi e tecniche, forme di conservazione, che sempre di più aiutano la conservazione del prodotto. Ma occorre appunto anche quel grande senso di responsabilità, perché lo spreco si combatte già nell'acquisto, quindi comprando con molta attenzione, dando valore, come posso dire, al bisogno e all'aspettativa del consumatore. Quindi occorre una catena di responsabilità. Rimettendo al centro quello che era ricamato e che io dico rimettendo al centro l'uomo e non le cose. L'uomo che custodisce il territorio, l'uomo che produce quella grazia di Dio, l'uomo quindi ristoratore che trasforma questo prodotto e quindi è una responsabilità in qualche modo, un umanesimo che in qualche modo abbiamo perso. Guardi Cursano, mi piace molto quello che sta dicendo adesso, perché effettivamente Norbert è una persona anche molto schiva, tant'è che ieri quando non lo sentivo più al telefono mi ero già allarmato, ho detto aiuto, Norbert mi ha abbandonato, invece lui da grande professionista eccolo là presente. Però è veramente, lui ha messo al centro della sua arte, della sua cucina l'uomo, il rispetto dell'ambiente. Abbiamo sentito, no? Norbert, io però ho una domanda da fare, perché credo che rispecchi anche un po' chi ci sta ascoltando a casa, no? Quando voi cucinate questi piatti particolari, molto belli, anche a vedersi, ma non soltanto molto buoni, curatissimi, perché voi veramente curate tutto al millesimo, ma lì lo spreco c'è o no? Come fai a evitarlo? Cioè uno chef che ha tre stelle, che quindi deve dare il massimo sempre, come fa a evitare lo spreco? Ma sai, noi, come ho detto con questo concetto di Cook the Mountain, abbiamo proprio girato tutto il lavoro che viene fatto anche sulle ricette nuove, perché all'inizio l'idea era praticamente tu avevi un'idea di un prodotto, di un piatto che volevi fare, hai preso il telefono in mano, hai chiamato tutto il mondo per vedere da dove posso comprare le miglior capisanti, da dove posso comprare le miglior patate, da dove posso comprare il miglior prodotto, proprio quello che volevo fare. Oggi è cambiato totalmente, perché oggi noi dipendiamo dal produttore, perché il produttore e la natura ci dà, in questo periodo dell'anno ci dà questo prodotto e noi lavoriamo attorno a questo prodotto, cioè noi usiamo tutte le tecniche possibili, tutti i metodi di lavoro, è tutto per portare il prodotto che è più naturale possibile sul piatto del cliente. Questo oggi è un cambio totale, per questo è un lavoro anche molto importante, per quello soprattutto oggi anche i giovani devono capire e devono imparare di nuovo tutte le tecniche vere. Il bello di questo lavoro qua è che tu esci dalla parte della cucina e entri nella parte della cultura, proprio lì poi capisci perché certi piatti sono stati fatti in una certa maniera, capisci perché le conservazioni sono state fatte in una certa maniera. Cioè noi non usando neanche agrumi d'inverno, perché siamo in montagna, agrumi lì non c'erano, per quello noi abbiamo cercato acidità d'inverno. L'estate non è un problema perché lo puoi fare con le erbette, però d'inverno dove trovi acidità, non volevamo usare aceti e non volevamo usare vino, cioè alcol. Per quello abbiamo cominciato a fare delle fermentazioni, però ci siamo resi conto che non adesso perché è una moda fare le fermentazioni, le fermentazioni sono vecchie. Poi entrando sempre più in questo tema, sempre più in questo modo di pensare, oggi sappiamo che in Asia fermentazioni vengono fatti da delle sals e soia fino a cent'anni, i crauti nelle montagne venivano sempre fatti, però era un'esigenza lavorare i prodotti d'estate per consumarli in inverno. Diventa una cosa molto complessa, molto bella, perché poi c'è la natura che ti dà in ogni periodo dell'anno proprio il colore giusto, ti dà il sapore giusto, ti dà la consistenza della materia prima giusta, per quello diventa una cosa molto naturale. Tu rientri in un mood nuovo perché tu hai un ciclo e tu riesci di nuovo a apprezzare il tempo, perché il tempo è molto importante, perché le verdure ci sono in un periodo di anno, perché i nostri produttori lavorano senza sere, ci sono le asparagi a Tarlano, ci sono 3-4 mesi da maggio a giugno, dipende dal tempo, tre anni fa i primi pomodori noi li avevamo usati a fine agosto, perché prima c'era brutto, e così c'è un ciclo completamente nuovo e devi lavorare in una maniera completamente diversa, però è anche bello. Prima sembrava molto complesso, molto chiuso, adesso oggi ti apre un mondo nuovo, ti apre proprio un modo di pensare in una maniera nuova e anche molto più innovativa. È vero, questo ribaltamento di canoni, diciamo di percorso che ha effettuato Norbert, c'è da dire che, grazie ovviamente alla sua sensibilità, l'hanno sposata molti, moltissimi chef, vero Norbert, a livello mondiale, quindi parliamo veramente di un'iniziativa che sta mettendo le radici ovunque, perché poi questo è il nostro futuro, senz'altro, vero Norbert? Ma abbiamo praticamente fatto questo evento nuovo che si chiama CARES, e CARES vuol dire prendersi cura, prendersi cura della natura, prendersi cura soprattutto anche di se stesso, e qui abbiamo cercato di coinvolgere dei chef da tutte le parti del mondo che lavorano su dei concetti, infatti quest'anno il tema è no waste, cioè noi l'hanno scorso d'inverno in Alta Badia, quest'anno siamo stati a Salina d'estate, un'esperienza per me pazzesca, perché veramente mi sono reso conto anche della problematica del mare, e adesso a gennaio sarà CARES, e lì sarà tutto sul no waste, e saranno dei temi pazzeschi, perché veramente abbiamo invitato delle persone, anche dei sistemi fuori dal modo di pensare, fuori dal box, come si dice in America, abbiamo invitato perfino Costa Crociere, che stanno lavorando su una barca nuova, che veramente fanno riciclo col biogas, riciclano tutta la materia prima, perché solo a pensare che una barca produce circa in un anno 120.000 tonnellate di umido, è una grande parte. Vedete che grande lavoro c'è dietro, Ecoevento, forse magari nel piccolo, ma mica tanto, perché voi anche fate questo lavoro, cioè voi andate negli eventi dove c'è grande spreco, so che state lavorando anche in Spagna, se non sbaglio, vero? Sì, Ecoevento è nata tre anni fa a Roma, e poi ha aperto varie sedi in Italia, Milano, Torino e Lecce, e quest'anno anche a Parigi e a Madrid, perché in realtà c'è una grande esigenza, mi piace molto aver ascoltato questo studio anche preventivo, perché è vero che lo spreco potrebbe essere ridotto anche preventivamente con lo studio di ricette, però per quanto riguarda quello che facciamo noi, in realtà noi abbiamo proprio deciso di focalizzarci sugli eventi, perché nell'evento lo spreco è quasi necessario, nel senso che non si può arrivare a servire l'ultimo boccone all'ultimo ospite, è qualcosa che... Ci deve essere una percentuale in più, no? C'è una grande imprevisto, e quindi... L'abbondanza è centrale per prevenire... E poi si tratta tra l'altro di cibo pronto, pronto per essere consumato, cibo di altissima qualità, e quindi è proprio lì che è l'esigenza di salvare questa risorsa, dobbiamo smettere di pensare che le risorse sono illimitate, sappiamo tutti che non lo sono, e quindi la nostra è una ricerca per cercare di utilizzare al meglio, in maniera efficiente, tutte le risorse. Tra l'altro lo spreco in questo momento dà la possibilità a chi è creativo anche di trovare appunto soluzioni creative, da poco abbiamo infatti inventato un nuovo prodotto che è una birra che viene realizzata con il pane in eccedenza, perché il pane per quanto può essere recuperato è tantissimo, ogni struttura, ogni hotel produce tantissimo pane in eccedenza, e quindi abbiamo da poco lanciato una nuova birra che si chiama Recuperail, proprio in questo senso, per anche sensibilizzare, insomma, altri giovani come noi, perché io sono una delle fondatrici, ma ci sono anche altri due ragazzi insieme a noi, a pensare nuove soluzioni contro lo spreco alimentare. Vedete quante cose si possono fare, Aldo Maria e Mario Cruzano, poi torno da lei, perché insieme, anche con il nostro pubblico a casa, vi voglio far vedere che cosa ci descrive da Rotea Gambardella, proprio per il riutilizzo del cibo, vediamo insieme. I piatti avanzati, come i sformati di maccheroni o le lasagne, magari il giorno dopo sono sempre più buoni, l'importante, una volta che avanza, è raffreddarli il più velocemente possibile. Ecco allora un menù del recupero per veri buon gustai. Le feste le facciamo in tradizione, un antipasto, quindi un antipasto che spesso si utilizza dal nord al sud, è il baccalà, poi ognuno lo fa nel suo modo. In questo caso un baccalà con finocchi, arancia e olive nere, che avanza. Il giorno dopo possiamo farci una polpetta di baccalà, ecco quindi un'idea tipo cibo da strada, tipo di finger food. Si parte togliendo la pelle. A questo punto al baccalà aggiungiamo delle patate bollite. Si mescola il tutto e dopo aver dato la forma che più ci piace... Passiamo la polpetta di baccalà nel pane grattiggiato. Poi in padella con un filo d'olio per farla indorare a puntino e voilà, l'antipasto riuse e servito da gustare assieme alla stessa insalata di finocchi, aranci e olive del giorno precedente. Passiamo al primo. Il risotto con i frutti di mare, quindi un altro ingrediente delle feste, può diventare un riso al salto, quindi un'idea un po' della tradizione milanese. Dopo aver adagiato sulla pellicola un coppapasta diamo forma al riso. Cerchiamo di ottenere un disco di riso più o meno della stessa altezza e ben pressato. Quindi ricopriamo con dell'altra pellicola. In questo modo conserviamo in frigorifero il riso al salto, poi, bello freddo, lo mettiamo in padella. Facciamo soffriggere il medaglione da entrambi i lati e impiattiamo decorando con i frutti di mare precedentemente riscaldati. Il secondo piatto, quindi il tacchino, il pollo farcito con le castagne, con la mela grana, possiamo farci un involtino di verza, quindi mangiare le verdure, mangiare tante fibre anche in questi giorni di festa. In questa foglia di verza, passata in acqua bollente per pochissimi secondi, incomincio a mettere la crema di castagno. Le fette di pollo, qualche foglia di rosmarino e un po' d'olio d'oliva, poi avvolgiamo la verza e facciamo rosolare. Al momento di servire, utilizziamo ancora la crema di castagne. E infine la mela grana, non più a chicchi come nella ricetta iniziale, ma a frullare. Allora, commentavamo qua in studio, Aldo Mario Cursano, cosa diceva? Beh, che la nostra cucina mediterranea, quella proprio domestica, si fonda proprio sul recupero del giorno dopo. Ecco perché forse dobbiamo guardare al futuro pensando un po' di più al passato, perché da lì viene la storia, le tecniche. Pensiamo che nei tempi antichi non c'erano congelatori, non c'era sottovuoto, non c'erano le tecniche di conservazione e di cottura, ma comunque si riusciva a valorizzare la stagionalità, quel legame, il contesto territoriale in un modo eccellente. Io vengo da Firenze, dalla Toscana, di pane ne sprechiamo poco, non si fa la ribollita, si fa la pappa, quindi è un modo di esaltare questi piatti poveri e ingredienti poveri laddove ci vuole sì un po' di tempo e prima proprio si rifletteva che le nostre nonne, le nostre mamme dedicavano tanto tempo in cucina e lo spreco era zero. Oggi, come diceva il vostro studio, lo spreco nelle mura domestiche del 54%. Incredibile, abbiamo sentito dei dati che ci ha dato con Andrea Romoli. Occorre su questo riflettere e capire. Sotto spreco, c'è una cosa che ieri nella nostra chiacchierata al telefono, io veramente a un certo punto mi sono soffermato, ho detto caspita, però non ci avevo mai pensato, lo zucchero, quanto ne sprechiamo, quanto ne buttiamo, lei diceva le bustine, se ne usa pochissimo, l'apriamo, ne mettiamo una puntina e lo lasciamo là e lo buttiamo. Questo aspetto deve farci molto riflettere perché le normi, le leggi devono accompagnare questa nuova sensibilità che si sta creando, come devo dire anche la legge Gaddi ha fatto come stimolo per la donazione al terzo settore in cui c'è un aspetto, come posso dire, di defiscalizzazione di ciò che viene dato e donato. Legge del 2016, tra l'altro, che sta producendo dei grandi risultati, le donazioni hanno avuto questa impennata perché se io vengo considerato comunque con ciò che rimane quale produttivo è chiaro che se io lo riesco a portare a costo diventa un valore anche aziendale. Ma lo zucchero è un'altra situazione che fa un po' male perché da un punto di vista igienico, che poi questo non è stato dimostrato, si è imposto in qualche modo la bustina che ha triplicato il consumo perché come si diceva, per il cucchiaino o mezzo cucchiaino, alla fin fine si adopera una bustina e lo spreco è diventato, immaginate, voglio dire, 50 milioni di caffè al giorno, 50 milioni di bustine, lo spreco. E poi diamo solo dell'Italia ovviamente. Lo zucchero diventa amaro perché poi ha un costo per l'azienda, per il consumatore, per lo spreco e quindi l'unica soluzione, secondo me adesso, vedere proprio le aziende produttrici ma anche i torrefattori, di diminuire, di portarlo a 50 grammi perché in effetti succede che si sta attenti allo zucchero. Quindi al massimo quel 10% che ama un po' dolce prende due bustine ma quel 90% va più che bene quella piccola bustina magari non da 100, non da 80 ma da 50. Questa è responsabilità sociale. E questo è vero, responsabilità sociale, mi piace questo termine. Su questo volevo fare una domanda a Norbert perché proprio sulla responsabilità sociale è basato questo grande impegno che avete preso voi, grandi chef, ricordiamo terza stella, quindi per Norbert qualche giorno fa è arrivata, ma non soltanto lui. Perché la responsabilità sociale a questo punto è fondamentale per fare un cambio di passo. Anche i giovani devono capire quanto sprechiamo e quanto veramente è un gran peccato. Guarda, io penso che innanzitutto dobbiamo, veramente abbiamo dei personaggi in Italia che veramente hanno fatto delle bellissime cose. Adesso per dire Massimo Bottura e la sua moglie Lara Gilmore con questo progetto di Food for Soul che ho cucinato per loro a Londra ed era veramente per un'esperienza pazzesca e veramente bellissima perché vedere praticamente di cucinare per gli homeless che è veramente un'esperienza bellissima. Però io penso un'altra cosa, io penso che noi oggi dobbiamo tornare indietro, dobbiamo tornare indietro perché la nostra generazione noi siamo ormai partiti per una direzione molto difficile che noi facciamo indietro al 100%. Penso che dobbiamo andare negli asili, penso che si deve rieducare i bambini, penso che si devono cambiare un po' le leggi anche e soprattutto per quello che può essere usato nei asili, quello che si può usare nelle cucine, anche delle minze soprattutto per le scuole e questo qui secondo me è un lavoro grandissimo da fare. Vi racconto una piccola storia, io ho lavorato tanti anni a New York, un giorno David Boulet che per me è uno dei più grandi cuochi in America, mi dice Norbert, tu cosa dici del mio mangiare? Ho detto guarda David, è buonissimo, solo è troppo dolce e lui mi dice sì va bene, tu hai un palato europeo però i bambini qui da noi crescono con i marshmallow e crescono con i candy. Ho detto sì però va bene, cosa vuol dire questo qua? Che quest'anno nella ricetta devo dare tre gambe di zucchero in più, cosa faccio allora l'anno prossimo? Ne do cinque e noi siamo in questo ritmo, anche noi, perché anche lo zucchero soprattutto in tutte le bevande, in tutto il mangiare per bambini, in tutti questi cioccolatini, biscottini, è troppo e questo qui è un grandissimo problema. Certo, indubbiamente poi da dei problemi sappiamo di salute, quindi insomma di diabete, sappiamo anche diciamo di grasso, di obesità, le chiamano di obesità e su questo Cursano è importante quello che stava dicendo Norbert perché, e l'avevi già detto prima, bisogna veramente fare un passo indietro, cioè ritornare al rispetto del nostro cibo. E' una questione proprio di stili di vita. Noi in questi ultimi anni, ma direi due o tre decenni, abbiamo inseguito modelli alimentari che non sono i nostri, che non fanno parte della nostra storia, della nostra cultura, dei nostri processi e quindi questa idea del fast, del veloce, del fast food, questa idea del cibo non come piacere, ma come necessità, a prescindere dalla sua qualità, dalla sua origine, ha un po' in qualche modo condizionato le offerte e il mercato. E quindi il ritorno ai valori della cucina mediterranea, del rapporto con la terra, il cibo diventa l'espressione della cultura di quel determinato luogo. E quindi ognuno ha la sua storia, ha i suoi mille sapori, ha i suoi mille saperi. Ma questo è il nostro modello alimentare, che è unico al mondo, che è il più imitato e che rischiamo in qualche modo un po' di perdere se non ritorniamo, come stiamo dicendo, a dare valore al cibo e quindi all'uomo che lo produce, l'uomo che ti garantisce, l'uomo che comunque gode a piacere. Perché il nostro lavoro, del mio collega, mio di tutti i giorni, io lo considero il lavoro forse più bello del mondo, perché alla fin fine consiste nel far star bene le persone, nel renderle felici. E noi ci sentiamo gratificati, proprio quando riusciamo a ottenere un sorriso, la gratificazione. Quindi è una missione, ecco perché bisogna ritrovare questa dimensione umana. Siamo proprio su questo, perché la Fipe si sta lavorando molto anche insieme al Comieco. Quanti ristoranti avete coinvolto, proprio per il doggy bag, se avanzo mangiatemi? Siamo oltre mille, perché questo aspetto di responsabilità, essendo che noi stiamo anche creando un elemento che identifica anche un locale, c'è una grande richiesta al punto che siamo un po' in difficoltà nella gestione, nella produzione, e stiamo vedendo anche qui, lo lancio, lo farei anche con i telespettatori, perché vorremmo superare il termine inglese del doggy bag e vedere di individuare un termine che possa più identificare lo spirito di questa iniziativa, che è amore, è il non spreco, è la responsabilità. No waste, come diceva prima Norbert. Quindi chiunque in italiano ritiene che possa fuoriuscire, noi abbiamo creato una competizione sulle varie province, proprio con i nostri commercianti, proprio per caratterizzare questa situazione che viene da una cultura americana, ma però deve diventare nostra. La dobbiamo fare nostra, sono d'accordissimo. Giulia Proietti, su questo ecoevento, sposa in pieno, no? Come nascete? Da dove arriva l'idea? Allora, ecoevento è nata in un matrimonio, da quattro ragazzi amici, semplicemente che hanno avuto, per sbaglio, hanno visto che cosa succedeva al cibo che non era consumato. Abbiamo visto un cameriere buttare il risotto che avevamo appena mangiato. I fondatori però tutti avevano un'altra vita, diciamo. Io dico sempre che se io non avessi studiato giurisprudenza, un altro socio, ecoevento non sarebbe mai nata. Infatti concordo con quello che si diceva prima, le leggi sono molto importanti anche per incentivare iniziative come queste. La legge Gadda è del 2016, ma ha ripreso una legge anteriore, che è la legge del Buon Samaritano, che è un'eccellenza italiana e che prevede che i donatori di cibo e gli esercianti commerciali non siano responsabili poi per quello che succede dopo a quel cibo. E questo è un fondamento, un pilastro per la nostra attività, perché chiaramente altrimenti un imprenditore deve anche fare i conti con... Con la responsabilità che ne deriva un domani. Certo, però quello della legge che appunto stava appena nominando, la legge Gadda del 2016, è stato un bel passo in avanti sulla donazione. Io lo considero meraviglioso perché nel mondo immagini della pasticceria, delle rosticcerie, il solito principio, non puoi non fare una produzione più abbondante delle aspettative perché nella vetrina devi comunque fino alla chiusura avere. Il fatto di poter dare a terzi, documentare e tracciare che le 600 bomboloni sono rimaste e che io li dono in un aspetto benefico, comunque hanno profitto al terzo settore, questo, ripeto, mi consente anche a me di, come posso dire, eliminare non solo uno spreco che mi fa stare bene, ma anche a fare del bene. Allora, è una questione di percorso, perché il cibo, da dovunque esso arrivi, nasce per essere comunque consumato e questa è una responsabilità che dobbiamo sentire tutti, deve soddisfare dei bisogni. Perché sprecarlo e buttarlo? Grazie a Dio, e ridico che è un peccato buttarlo. No, se posso dire qualcosa, io penso che noi qui dobbiamo dare spazio ai giovani, perché i giovani veramente cominciano a pensare in una maniera diversa e soprattutto se torniamo indietro sulla cultura nostra che abbiamo, il pane di oggi, fatto in una certa maniera, è più buono domani. Per quello, se noi cominciamo veramente a far capire la gente che per certe cose si deve avere un po' di tempo, si deve aspettare un po' e si deve valorizzare proprio la materia prima, la materia prima, la tecnica e soprattutto anche il modo di fare, così veramente si riesce a fare, perché io non sono convinto della cosa che io devo andare in un negozio alle sei di sera e avere il bancale del pane pieno. Io preferisco che è vuoto, che c'è una pagnotta lì ancora, magari che la posso mangiare anche il giorno dopo, perché tutto quell'altro pane prima è un problema regiclarlo. Lì hanno ragione i giovani, perché non è, è quello il fatto. Si deve fare, però se si anticipa prima, si riesce e soprattutto se non si comincia a buttare via roba, perché se noi pensiamo che il 50% viene buttato via, se io aumento la spesa del 10% e del 15% in qualità e compro solo quello che ho veramente bisogno, ho già risparmiato soldi, per quello anche l'aumento delle qualità, anche l'aumento della spesa, a me non fa male, perché ho recuperato comunque il 30-40%. E non è sprecato. Questa qui è una bella cosa, e non è sprecato. E non è sprecato. Norbert, veramente grazie, è stata preziosa la tua presenza, siamo veramente onorati che tu sia stato con noi a TG2, il lavoro in corso. Grazie per tutto il lavoro che fai, permettetemi di ricordare un grande chef, Baltiero Marchesi, che è venuto a mancare ieri, e non possiamo non farlo, perché è un altro grande, veramente un signore della cucina, quindi veramente siamo con lui per tutto quello che ha dato alla nostra bella Italia. È lui che ha aperto la strada per la cucina italiana e anche al mondo. Certo. Grazie Norbert, buon lavoro. Grazie, buon Natale. Grazie, grazie ovviamente a Giulia Proietti. Grazie a voi. Aldo Mario Cursano, preziosa la vostra presenza qui a TG2, il lavoro in corso. Rimanete, perché adesso vogliamo parlare di qualcosa che gira sul web, queste famose fake news. Di che cosa parliamo? Vediamo con Andrea Romoli. Ciclicamente sui social network vengono fatti i circolai e i post allarmistici su presunte nuove droghe dagli effetti letali o su subdoli metodi di spaccio che sfruttano le potenzialità della rete. Se questo genere di allarmi non arrivano da fonti istituzionali o dalle forze di polizia, è probabile che si tratti di fake news realizzate ad arte per creare paura oppure per raccogliere click sulle pagine che li pubblicano, spesso infarcite di ben remunerata pubblicità. Per combattere i pericoli reali e concreti dello spaccio della diffusione di droghe fra i giovanissimi, la Polizia di Stato ha creato la app YouPorn. Facilmente scaricabile su tutti i tablet o gli smartphone, questa applicazione permette di segnalare direttamente alla questura tutti i fatti relativi allo spaccio o al consumo di droga di cui si è stati testimoni. Si possono inviare fotografie o testimonianze dirette, ma anche rilanciare segnalazioni che si sono ricevute direttamente sulla rete o per messaggi di posta elettronica. Applicazioni come queste sono strumenti utili di collegamento fra la società civile e le forze di polizia per combattere la diffusione delle droghe, specialmente fra giovani e giovanissimi. Qualcosa di molto diverso da segnalazioni, dubbi e autoprodotte come questa che circola da alcune settimane e che parla di un nuovo segno di riconoscimento diffuso fra i giovani che starebbe a indicare la disponibilità a vendere o a comprare droga. Vero o falso? Lo chiediamo ad Annarita Carollo del Comando Nazionale della Polizia Postale. Sui principali social network si sta diffondendo un post riguardante un nuovo segnale tra i ragazzi, si tratta di un pollice rovesciato che indicherebbe la volontà di acquistare droga. Si tratta di una notizia infondata anche perché quel segnale rimanda a un gioco tra i ragazzi per l'esercizio della visione periferica. Questa è una fake news. Dobbiamo fare molta attenzione, invece adesso cambiamo argomento perché vogliamo parlare di star bene, star bene in tutte le lingue. Pensate, con Isabetta Migliorelli andiamo in India, yoga. Vediamo insieme. Tutta l'attenzione al corpo Tutta l'attenzione al corpo è quello che succede nelle varie parti del corpo. Il bosco del mesmoque Somista La torre. Il pedale. La fruta. Verso la gamba. Una fansazione. Una sensazione forte. L'esperimento. Uno supone. Il足io. Buongiorno, benvenuti a star bene in tutte le lingue del mondo, buongiorno, buongiorno anche all'insegnante di yoga, Roshni Shekher. Oggi parliamo di yoga, come abbiamo visto dalla nostra copertina curata da Laura Garofalo. Buongiorno, do il benvenuto anche agli allievi che sono anche insegnanti, Michela e Flaminia, Antonio e Lorenzo. Allora, Roshni, prima di iniziare, per entrare in questo mondo, nel mondo dello yoga, vediamo insieme un servizio curato per noi da Laura Garofalo. Disciplina millenaria nata in India, lo yoga sta conoscendo in questi anni un periodo d'oro. I praticanti continuano ad aumentare sia in Italia sia nel resto del mondo. Dati ufficiali non ce ne sono, ma secondo alcune stime, le persone che si allenano sul tappetino sono quasi 2 milioni. Un numero che continua a crescere, un po' perché lo yoga è diventato di moda, un po' perché è un'attività che risponde a esigenze profonde, che superano il desiderio di fare movimento. Non è uno sport, ma una filosofia di vita che unisce corpo, mente e spirito. Non allena solo i muscoli, ma richiede costante attenzione alla propria respirazione e a ogni singolo movimento, aiutando la concentrazione. L'Assemblea delle Nazioni Unite, su indicazione del premier indiano Narendra Modi, ha istituito per il 21 giugno, giorno del sostizio d'estate, la giornata mondiale dello yoga. 170 paesi coinvolti, in Italia l'ambasciata dell'India, oltre a organizzare eventi in tutto il paese per quella giornata, lavora per diffondere la conoscenza dello yoga tutto l'anno. Un impegno che andrà rafforzandosi dopo che il presidente del Consiglio Gentiloni, poco più di un mese fa, in visita di Stato in India, ha proposto che lo yoga entri come insegnamento in tutte le scuole. Ecco, Roshni, allora abbiamo sentito che lo yoga è uno stile di vita. Che cosa vuol dire questo? Ok, innanzitutto per spiegare bene questa cosa dovrei spiegare che cosa è il Raja Yoga, che è la via reale, che parla del uomo in tutte le sue dimensioni, quindi non solo la parte fisica o controllo dell'energia tramite il respiro, ma per primo lo yoga insisteva all'epoca sulla Yama e Niyama, che è la parte etica e le discipline richieste da una persona per poter realizzare questa etica. Quindi anche cultura non è soltanto movimento? No, assolutamente no. È chiamato la via reale perché lo stile, la disciplina comprende otto rami, Yama è il primo, Niyama è il secondo, poi c'è Asana, la parte fisica, poi Pranayama, che è il controllo dell'energia tramite il respiro, poi c'è Pratyahara o ritiro dei sensi, poi c'è Dhyana o concentrazione della mente, poi Meditazione, Dharana scusate, Dhyana è meditazione e Samadhi, l'illuminazione. Quindi questi sono gli otto rami dello yoga che comprende tutta la vita dell'uomo. Yama e Niyama erano prima praticate, una persona doveva essere completamente stabilita nell'etica prima di cominciare neanche a praticare, ma in questi tempi è un po' difficile, quindi si usa il corpo e il respiro per arrivare a controllare la mente. Ecco, a proposito di uso del corpo, vediamo i suoi allievi, che cosa stanno facendo in questo momento? Stanno facendo il saluto al sole, che è una serie di 12 posizioni in dinamica, è usato per riscaldare il corpo prima di fare le posizioni statiche o asana. Queste 12 posizioni riscaldano più di 430 grossi gruppi muscolari, quindi si genera un grande calore dentro e prepara il corpo per fare poi le posizioni dopo. Quanto è importante quindi il respiro nello yoga? Il respiro è tutto, per vari motivi. Per esempio, anche a livello fisico, per avere una migliore apertura polmonare, c'è un modo giusto di respirare, si respira durante il movimento o durante le posizioni, mentre tengono le posizioni, si respira dopo fra una posizione e l'altro, quindi c'è un continuo ricarico di energia tramite il respiro e anche per questo, dopo un'ora e mezzo o due ore di un'elezione molto intensa, uno esce molto carico di energia e non stanco. Ecco, Roshni, qual è l'obiettivo dello yoga? L'obiettivo dello yoga è l'armonia di un uomo con se stesso e un uomo con fronte a tutto l'universo o tutto l'intero. Il modo di arrivare a questo è tramite la pratica fisica, tramite il controllo del respiro, ma tutto deve portare poi alla meditazione e alla pratica dell'etica perché una volta uno sente il beneficio di stare bene all'interno, tramite la meditazione e il comportamento etica, naturalmente il suo modo di vedere le cose cambiano, naturalmente il suo comportamento verso gli altri e verso tutto l'universo cambia. Ecco, a proposito di questo, del rapporto fra uomo e universo e dell'importanza dello yoga per il benessere delle persone, ascoltiamo, seguiamo insieme adesso una testimonianza raccolta da Laura Garofalo. L'obiettivo dello yoga è l'immobilità, nel senso che il corpo, lavorando, diciamo riuscendo a fare quello stretching, ci permette poi di poterci fermare. Lo yoga è unione e saper stare lì dove si è, quindi imparare a stare anziché fare. Possiamo definire lo yoga uno sport? È qualcosa di più di uno sport, quindi è anche un messaggio culturale, un messaggio sociale. Un'attività che fa benissimo, tanto che voi come federazione la portate anche negli ospedali. Sì, è un'attività talmente che lavora appunto con il benessere, e con l'equilibrio, che nel 2010 l'IFO, e cioè il Regina Elena San Gallicano, ha contattato la Federazione Italiana Yoga per poterci avere e collaborare con i pazienti. Vengono pazienti anche un po' con l'Eflebo, quindi le nostre lezioni di yoga sono lezioni particolari. Che cosa ha questa disciplina che ci manca, e quindi perché sempre più persone scelgono di fare yoga? Sempre di più l'uomo sente l'esigenza di fermarsi, di ascoltarsi, e quindi fondamentalmente lo yoga ci porta a raggiungere il qui ed ora. Ecco, lo yoga ci porta ad ascoltare il nostro respiro. Noi respiriamo, nasciamo con un respiro, moriamo con un respiro, eppure non ci possiamo permettere il tempo di ascoltare il nostro respiro, ma di fumare sì. Quindi il fumo non è altro che io trovo un momento in cui tu puoi dire vado a fumarmi una sigaretta, quindi raccoglierti e unirti a questo tuo respiro. Ecco, se solo ci si riflettesse un pochino, probabilmente invece che fumare si direbbe vado un attimo ad ascoltare il mio respiro. Abbiamo sentito lo yoga anche negli ospedali, ma tutti possono praticare yoga? Sì, tutti possono praticare yoga, ma ovviamente deve essere gestito. Ci sono le yoga terapie, noi per esempio abbiamo tantissime patologie diverse anche nella sala, regolarmente alcuni un po' gravi, alcuni meno gravi, ma gestiamo la lezione in modo di servire a tutti quanti. Vogliamo illustrare ora qualche posizione, le posizioni principali, magari le posizioni base? Sì, iniziamo con le posizioni shi shasana o la posizione con la testa in giù, la verticale. Potete fare anche le variazioni. Questa posizione, innanzitutto, serve un totale controllo fisico, ogni muscolo del corpo è flessibile e forte, quindi non solo a livello un pochino più sottile, non solo a livello muscolare, l'energia, prima il sangue scende, arriva in testa, quindi aumentando anche tutte le facoltà mentale, concentrazione, memoria, eccetera. Lavora sulle ghiandole endocrine, tutte quanto le posizioni della yoga, quindi mantenendo un sistema ormonale sano nel corpo, che è fondamentale anche per l'umore e per stare bene, e anche l'energia che arriva nella testa. Però non è certo una posizione per principianti questa? No, ci sono delle posizioni ovviamente di addestramento, ci vuole tempo di arrivare a fare delle posizioni, ma ci sono delle posizioni che piano piano addestrando... Quali sono alcune delle posizioni per principianti, diciamo così, di addestramento? Flamina, puoi fare sedubandasana, per favore? Per esempio, questa è una posizione che usiamo, ovviamente anche qui lei lo sta facendo completo, ma tanta gente non riesce ad alzare completamente il bacino, ma piano piano sciogliendo si arriva a avere una flessibilità della schiena più forte, e poi piano piano portiamo a fare anche le altre posizioni. Per esempio potete fare sarvangasana, la candela. Ovviamente noi non stiamo facendo la variazione, solo la posizione. Certo. Roshi, il saluto quanto è importante? Il saluto... Il saluto OM. Ah, ok. OM è considerato la vibrazione primordiale. Quindi quando noi recitiamo il mantra OM, quello che noi stiamo facendo veramente è mettere la frequenza o la vibrazione interna in armonia con quella della Terra o con tutto l'universo. Per questo recitando OM, uno procura un senso di armonia e di pace, perché piano piano cambia la vibrazione all'interno. Grazie a Rojne Schöker, grazie anche ai nostri allievi Michela Flaminia, Antonio Lorenzo. Grazie anche a tutti voi per averci seguito. Buona giornata. Solo a guardarci ci avete rilassato. Adesso vogliamo andare al cinema con il grande circo dell'intrattenitore Barnum. Daniela Bisogni, vediamo un po'. Immaginate un luogo in cui le persone possano vedere cose mai viste. Ognuno di noi è speciale e ciascuno è unico. Questo è il credo di Barnum, che con il suo più grande spettacolo sulla Terra, un enorme circo a tre piste e quattro barcoscenici, voleva convincere il pubblico come qualunque sogno, visione fosse realizzato. Vi presento il famoso gigante irlandese. Da qui sono partiti gli autori di The Greatest Showman, per raccontare come il leggendario impresario ottocentesco, personaggio controverso e contraddittorio, abbia rivoluzionato il mondo dello spettacolo e la percezione stessa del pubblico. Celebre l'effetto Barnum, creare immedesimazione da una generica discrizione. In altri termini, la nascita dello show business. Da allora nulla è stato più come prima. Così ritroviamo Hugh Jackman, il versatile attore australiano, che da supereroe Wolverine diventa questo personaggio assai frequentato al cinema, anche incarnazione di Bart Lancaster. Colonna sonora, le canzoni degli autori da Oscar di La La Land, con la differenza che questo è un vero musical, perfetto per alleggerire gli animi in tempi difficili, con il contorno di coloratissime scene e costumi. Energia allo stato puro, quasi un inno all'allegria. Adesso TG2 Flash, io vi aspetto domani puntuali alle 10 con TG2 Lavori in Corso. Grazie e buona giornata. Grazie. Grazie a tutti.